questo è l'effetto che vedete si chiama l'effetto noise e e lasciamo sa parliamo di come abbiamo fatto il gioco poi magari sì sì grazie dell'informazione non l'avrei detto ok sì 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 ok allora sono qui per parlarvi di come abbiamo sviluppato questo gioco in particolare io parlerò del design che l'abbiamo fatto insieme e della grafica di come è stata creata silenzio che si arrabbia allora ad aprile 2016 quando abbiamo praticamente ha avuto un vibe in casa per puro caso abbiamo notato che la prima cosa che succedeva giocando col vibe è che se passa tipo la nonna o passa la sorella prendi un pugno in faccia perché comunque tu sei nella realtà virtuale non vedi niente e e quindi tendi a muoverti un sacco perché c'è molta presence allora la cosa che abbiamo notato pure che ci aveva un'estrema precisione cioè rispetto a tutti gli altri device che avevamo provato e di cui siamo molto diciamo appassionati lui per lavoro io perché però mi piaceva tanto era uno dei più precisi se non il più preciso nel mentre non so quanti di voi lo conoscono io mi stavo sfondando le cervella con devil daggers che è un gioco uno sparatutto iper competitivo soltanto tra utenti in cui stai su una piattaforma è semplicissimo c'ha due comandi ed è diciamo stata la la botta di ispirazione nel fare edge guardian perché a un certo punto maurizio mi fa oma immagini come potrebbe essere un devil daggers in vr e a me mi esplosi il cervello perché perché ho detto ispirarsi a devil daggers era la cosa migliore la room scale è uno spazio delineato dal quale non puoi uscire devil daggers funziona allo stesso modo cioè hai una piattaforma dove se esci in quel caso muori nel nostro caso invece semplicemente ci serviva un modo per delineare l'area di gioco i nemici in devil daggers arrivano a 360 gradi ed era una cosa abbastanza nuova perché tutti i giochi usciti per la vr vuoi per questioni commerciali vuoi semplicemente per comodità sfruttano solo i 180 gradi davanti al giocatore poche volte sfruttavano all'epoca adesso ce ne sono diversi sfruttavano anche le spalle cioè facevano girare il giocatore molto molti pochi giochi anche perché dovevano convertirli per psvr o semplici semplificarli per per oculus è un gioco ad orde cioè in pratica arrivano orde di nemici e più ne arrivano più ce ne sono se non li abbatti continuano ad arrivare che è una cosa che mi è piaciuta molto di devil daggers a un gameplay semplicissimo c'ha due regole del tipo spara con lo shotgun che poi non è uno shotgun o spara dei coltelli e basta e quindi mi piaceva questo fatto di avere poche regole ma molto profonde nel gameplay e poi abbiamo detto ci abbiamo un vibe in casa un mese facciamo qualcosa che se non lo buttiamo e quindi praticamente da aprile a maggio una giornata di maggio ho cominciato a scrivere diciamo il pitch interno nel senso marizio vogliamo fare questo gioco si presentamelo e quindi praticamente ho presentato edge guardian a maurizio si chiamava exatron all'inizio il progetto ed era semplice cioè doveva essere un gioco in cui stavi in un mondo fatto di gubbi e poi vi spiegherò perché dove dovevi fare delle cose per sconfiggere i nemici un po come accadeva in devil daggers come potete vedere questa è la primissima immagine del pitch e come nel gioco c'è un pilone centrale al centro della dell'area di gioco perché questa cosa avevamo notato che giocando in a diversi giochi vr c'era una tendenza a spostarsi troppo sui bordi e a perdere l'orientamento questo pilone centrale doveva servire per dare al giocatore sempre la posizione centrale dell'area di gioco e non perdersi mai quindi in pratica bastava uno sguardo ti giri ok sto lì e serviva anche da hub di gioco almeno nel nella versione che avevamo presentato inizialmente i muri che si alzano cioè nel senso noi nel gioco abbiamo una feature che illumini il muro il muri illumini scusatemi il pavimento e alzi il muro dal pavimento che fa molto diciamo bender e pure ex quel quadratino che avete visto prima il personaggino che avete visto qui che vedete sono rimasti anche nel gioco attuale cioè nonostante il pitch abbia diverse cose che non esistono più queste cose qui stanno da maggio del 2016 e sono rimaste questo invece un'idea di maurizio infatti lo chiamo il mitico suppostone di maurizio che è una che è diciamo un metodo di attacco dei nemici che che inusuale nel senso in devil duggers e negli altri giochi sono i nemici attaccano sempre che invece in questo caso è più impersonale sono i nemici che cercano di succhiare sul postone e no va bene succede questa e quindi praticamente questo ci ha permesso di fare un sistema di gameplay diverso dal solito cioè il nemico è passivo nei tuoi confronti però tu sei attivo nei confronti del nemico è una cosa molto interessante all'inizio oltretutto infatti la grafica del gioco come potete vedere doveva essere molto più semplice di quella che potete provare giù dal filmato che avete visto prima e doveva anche avere una room scale dinamica nel senso più la room scale è grande più la piattaforma è grande però c'erano diverse cose da fare e come scrivo qui sono cose che si possono sono cose fiche che puoi fare se c'è il tempo e i soldi per farlo noi non c'eravamo né tempo né soldi volevamo uscire su steam più in fretta possibile questo per quanto riguarda le feature attorno al gioco per i ogni è stato un approccio più complesso io sono un grande appassionato di picchiature in prima persona ce ne sono pochissimi esemplari e questo è il mio preferito in assoluto che project breakdown che quanti l'hanno giocato grandissimo 2 3 fantastico di solito e 0 è un gioco oscuro per xbox prima versione ed è molto interessante perché c'è un sistema di combattimento molto avanzato e divertentissimo c'è una storia fuori di testa e c'è un deserto all'inizio del gioco poi vi spiegherò perché un'altra tipologia di brawler in prima persona è stato con l'avvento di lui motion plus e con diciamo la box del wi motion plus c'era un problema però era non funziona benissimo non c'è un controllo uno a uno c'è una compensazione quindi era simpatico come sperimento ma non funzionava bene altro esempio di tentativo di fare un brawler fuori dagli schemi sempre in prima persona è stato rise of nightmare per kinect cioè penso il sistema di controllo peggio ideato sulla faccia della terra dove per girarti dovevi metterti così per andare avanti per portarti avanti con il piede andare dietro col piede cioè sembrava di fare dance dance revolution quanti l'hanno giocato l'hai giocato c'è un'altra mano hai giocato ah grande e questo era simpatico però ovviamente col kinect non hai feedback non hai niente l'idea quale è stata inizialmente grazie al sistema di controllo del del vibe noi avevamo messo il pugno collegato sulla parte iniziale del controller quindi abbiamo notato che le prime persone che ci hanno giocato esternamente a parte noi attaccavano i nemici a martello tipo minecraft non era l'ideale perché io volevo fare qualche cosa come avete visto negli altri giochi qualcosa di prima persona fortunatamente ci ha pensato un ragazzo con thrill of the fight un gioco in di box dove tu c'hai un avversario umanoide e lui per primo ha detto che io voglio fare un gioco di box nella box si tirano i pugni non ho bisogno di un altro sistema di controller di controllo i pugni ce li ho già stanno sopra il controller li stanno mantenendo quindi praticamente i pugni stanno già sul controllo c'hai i pugni nelle mani che succede grazie che no bit nel nostro caso abbiamo fatto una scelta diversa rispetto a thrill of the fight abbiamo messo il pugno proiettato più avanti e più grande rispetto al pugno naturale stessa identica posizione stessa identica inclinazione in modo da togliere di mezzo due fattori allora in thrill of the fight se tu dai un pugno vicino alla room scale al limite della room scale e lo dai esattamente dove c'è il muro di casa tua tu ti sfondi la mano e sfondi il controller nel nostro caso no perché essendo una proiezione puoi anche colpire le cose che stanno a terra le cose che stanno a lato anche se arrivi al limite della room scale è difficile che tu dai una botta nel muro quindi è un è una soluzione abbastanza godibile anche per il giocatore che c'è magari una room scale piccolina magari solo due metri e cento a noi ne servono due tre per fare il gioco completo un'altra cosa interessante e questa è stata un'idea di morizio è stato prendere i nemici morti a terra vedete quanto è cattivo prendi i nemici morti a terra e lanciamoli in faccia gli altri come proiettili cioè proprio non lo vedete così ma questa è una bestia e ed è anche questo basato sul sulle altre esperienze vr che avevamo provato perché ovviamente come il vibe ci è arrivato a casa come abbiamo preso un piccino ci siamo sfondati 80 giochi come se nulla fosse e questo è interessante perché a livello di gameplay ci ha permesso di creare dei nemici che non si avvicineranno mai al giocatore ma gli danno fastidio da lontano quindi devi anche in quel caso modificare il tuo sistema di combattimento che in base alla persona che lo usa cambia completamente il sistema di controllo iniziale era molto complesso complesso allora c'era il touchpad che alzava il muro con il grip prendevi il nemico poi tieni premuto sei preso il nemico lascia per lasciare il nemico sei selezioni poi non si capiva niente cioè abbiamo fatto una sessione di beta testing dove la gente dice bello ci ho capito un cazzo quindi a un certo punto siamo dopo incredibilmente averlo fatto usare a 20 persone che non hanno mai visto la vr abbiamo capito che facendogli provare tre giochi da zero i tre giochi più semplici che c'erano riuscivano a divertirsi immediatamente a capire subito qual è il sistema di combattimento quindi l'abbiamo modificato l'abbiamo semplificato thrill of the fight che fa tira i pugni ok noi abbiamo i pugni tutti gli altri pulsanti lanceranno il nemico il grilletto servirà soltanto per fare il grab o la selezione come fanno tutti i giochi vr sulla faccia della terra è piaciuto tantissimo è piaciuto un sacco pure a noi quando l'abbiamo fatto non ci credevamo infatti noi siamo andati in panico per questa cosa però l'abbiamo risolta tipo in una giornata quindi è andata bene allora del comportamento dei nemici ve ne parlerà maurizio perché diciamo una cosa che si è vista lui è una cosa geniale ha fatto un lavoro fenomenale però dal canto mio posso dirvi che a livello di design il fatto di avere dei nasi rossi sul nemico e che fanno anche da energia quindi più nasi hanno più energia è alta più li devi colpire è stata una scelta molto interessante è anche una bella scelta di ui perché in quel caso la c'è un interfaccio utente molto semplice non devi scrivere energia non devi scrivere niente lo sai te un pugno lo ammazzi diserto e cubi allora io vi posso dire che confession beer da aprile cioè è stato il prima la prima volta che ho aperto blender la l'unica volta che l'aveva aperto era per fregarmi un modello poligonale di rim fandango quindi prima di adesso blender non l'avevo mai aperto faccio grafica da vent'anni mai aperto blender me ne sono innamorato però giustamente la prima cosa che ho vista prendo blender o i cubi apri blender c'è un cubo quindi ho cominciato a fare cubi comunque ecco perché ah guarda che cazzata si fanno i cubi spona cubo così infatti avevo cominciato a fare delle tipo una cittana cosa astratta come volevo farlo inizialmente però non andava bene ci siamo accorti che era brutto da vedere allora ho detto adesso faccio una cosa che va fuori controllo totale e detto ok adesso faccio giorni sì perché prendo giorni per l'aspetto del diciamo minimalista dell'ambiente e il fatto di avere un deserto senza arrivarci minimamente e e poi prendo porta al 2 per il comportamento di ex e per quanto riguarda la comunque lo stile minimale degli ambienti non di gioco che sono quelli dell'hub una veloce battuta su ex ex è composto personaggino che parla da 90 per cento di frasi di coach di baseball e citazioni da street fighter e tecken cioè vi incita a giocare vi vi tratta bene vi tratta male in base a quello che fate tipo un come posso dire fa la telecronica slash motivatore di quello che state facendo ok abbiamo fatto una camera principale che collega gli altri mondi e questa camera principale è stata fatta per puro caso perché mi sono impuntato l'ho voluta fare l'abbiamo provata ci è piaciuta e ci abbiamo messo assieme perché abbiamo deciso assieme di metterci diversi elementi grafici per renderla ancora più bella e secondo me è venuta molto carina come avete visto dal filmato oltretutto e questa invece è la prima versione del deserto che come potete vedere è evocativa quanto un cesso dell'autogrill e non ci azzeccava niente con giorni cioè doveva essere una cosa volevamo che fosse come giorni cioè bello da vedere come giorni quindi ho cominciato a studiare come era stata fatta la grafica quindi molte poche texture un sacco di poligoni la connessione tra la sabbia e gli oggetti poli e le mesh poligonali se volete sul loro sito c'è scritto di tutto e quindi a un certo punto ho notato che per fare la sabbia avevano usato tre strati di mesh di cui uno con i particellari un altro con le modifiche bla 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 a un certo punto niente siamo arrivati a una soluzione simile semplicemente per caso abbiamo duplicato per sbaglio la mesh del deserto è uscito il deserto uguale a quello di giorni cioè ve lo giuro cioè è uscito il deserto uguale che avevamo i particellari c'avevamo la duplicazione è uscito uguale ma per caso perché abbiamo sbagliato infatti mi ricordo quella volta mauri fermo non toccare niente uguale è uscito qua e infatti il gioco nostro è venuto così graficamente ci assomiglia un po ci hanno detto pure degli utenti la sabbia che vedete vicino agli oggetti l'ho disegnata io a mano cioè nel senso sono andato vicino in vicino al modello a mano a disegnarla con blender non sapevo come fa non lo usa e quindi si può dire che l'aspetto del gioco nostro si riduce a questo sì diciamo che è stata una bella botta di culo però dopo di che l'abbiamo ragionata questa botta di culo perché abbiamo detto ok l'aspetto del gioco deve essere comunque coerente con il mondo di gioco infatti il livello del deserto altro non è che la camera iniziale esplosa in un'altra realtà poi ci saranno altre evoluzioni molto più studiate perché poi da quando abbiamo pubblicato il gioco su steam ma adesso ci siamo messi a studiare io mi sono messo molto a studiare a livello di design ho passato tutto ottobre a fare i design dei nuovi livelli uno dei nuovi livelli è questo nello vedete senza texture senza niente che uscirà questo qua il è l'arena di gioco per quanto riguarda il bonus stage questo è un pianeta che sto facendo e che farà parte di un livello nuovo e dove ci saranno anche pezzi di storyline e in questo momento stiamo per fare i primi tre boss del gioco che praticamente varieranno completamente il sistema di combattimento e aggiungeranno nuove nuovi poteri al guardiano e adesso morizio visto che non ho assolutamente idea di che cosa vi parlerà potrebbe parlarvi pure di maria dei filippi non ci siamo messi d'accordo se vi parlerà di maria dei filippi ok si google lo so ok adesso che marco vi ha fatto vedere tutte le cose fighe a me tocca annoiarvi un pochettino con qualche nota tecnica sullo sviluppo giusto una cosa visto che il filmato era meraviglioso prima il gioco potete vederlo dal vivo noi siamo al piano terra per chi non è passato ancora veniteci a trovare dopo e ci fate un giro direttamente ed è la cosa migliore per capirlo ok cosa significherebbe sviluppare un gioco per realtà virtuale se uno dovesse partire da zero realizzare un mvp videoludico un prodotto rapido da consegnare in fretta in pochi mesi richiede oh mio dio le frecce funzionano meglio? no le frecce mi fanno andare avanti di slide no è che ho il timore che si sia ok richiederebbe una serie di sfide tecniche innanzitutto bisognerebbe occuparsi del rendering stereoscopico della scena dal momento che una visione in realtà virtuale richiede un doppio rendering sullo schermo richiederebbe occuparsi del setup della telecamera cosa che mi è capitata lavorando in passato su altri progetti stereoscopici e il setup di una telecamera stereoscopica richiede di occuparsi di cose come distanza interoculare delle convergenza che appunto servono per simulare la binocularità che abbiamo noi bisognerebbe poi occuparsi del tracking degli oggetti avere a che fare con librerie di basso livello per acquisire i dati di tracking degli oggetti richiederebbe di lavorare i dati di tracking interpolarli e farne smoothing perché non sono mai precisi richiederebbe la gestione dei device che vengono tracciati insomma sarebbe un bello smazzo in questo ci è venuto molto incontro e per fortuna altrimenti non avremmo mai potuto realizzare questo tipo di lavoro in così poco tempo l'integrazione, il lavorone di integrazione che è stato fatto da Valve con il motore Unity 3D per l'uso di Unity con HTC Vive si utilizza l'architettura open source di Valve che è denominata SteamVR e che si appoggia ad una libreria anche quella open source, cosa molto simpatica che è OpenVR questa libreria si occupa di tutte quelle cose che ho detto prima tutto quel lavoro che avrebbe richiesto probabilmente 6 mesi di sviluppo soltanto per il setup iniziale si riduce a prendere una componente già pronta in Unity e trascinarla nella scena inoltre ci è venuto in aiuto anche il VRTK, il VRToolkit che è un prodotto nato dalla community è un utente Vive la community di Vive è estremamente attiva ci sono un sacco di persone che sperimentano e che fanno cose fanno anche cose belle tipo questa il quale ha detto ok, cosa serve a un utente che vuole realizzare un progetto con Unity per la VR? servono controlli per grabbare oggetti per teletrasportarsi per avere una collisione tra il controller e l'interfaccia e cose di questo genere e l'ha fatto era un prodotto grezzo all'inizio quando abbiamo iniziato ad utilizzarlo infatti io mi sono trovato costretto a fare delle modifiche nonostante tutto è stato comunque un ottimo aiuto inoltre è un prodotto che adesso è diventato è evoluto moltissimo negli ultimi mesi ad oggi è un componente standard utilizzato praticamente da chiunque realizzi questo tipo di giochi quindi dice ok, allora voi che avete fatto? no, ok, le sfide si sono spostate più ad alto livello e soprattutto nel nostro caso le sfide sono state trovare una modalità di lavoro che consentisse iterazioni brevi perché avevamo pochissimo tempo un vibe da sfruttare e un mercato che cambiava da una settimana a un'altra quindi dovevamo arrivare sul mercato il prima possibile time to market come direbbe qualcuno che conosciamo noi dicevo cosa vuol dire iterazioni brevi? ve ne farò un esempio tra poco su quello che abbiamo fatto effettivamente come vi dicevo inoltre per la natura dello strumento del vibe era necessario stare sul pezzo con l'ottimizzazione del prodotto perché il vibe richiedeva tra parentesi 90 frame al secondo obbligatori dico richiedeva perché è uscita una tecnologia recente che ha dimezzato questo requisito in ogni caso avere un prodotto ottimizzato non è male questo perché qualunque salto di fotogramma risulta estremamente fastidioso per l'utente e peggio ancora un calo prolungato di frame rate significa vomitino per chiunque stia in realtà virtuale o quasi tutti qualcuno desensibilizzato c'è pare che chi non abbia sensibilità alla motion sickness dicono dicono ok ma non è scusa non ero io lo psicopatico come dicevi prima no ok come dicevo è un problema che è stato parzialmente superato con questa nuova tecnologia però le tecnologie aumentano il prodotto ottimizzato resta sempre un valore perché ci si può sempre aggiungere roba nel caso ok un esempio di iterazioni brevi ve lo faccio con il comportamento dei nemici di cui vi parlava Marco prima per il comportamento dei nemici mi sono messo a riflettere parecchio alla fine sono arrivato ad una soluzione di comportamento emergente perché all'origine erano le sfere ovvero il primo test che abbiamo fatto c'erano semplicemente delle sferette che venivano verso il centro in maniera lineare e dovevano essere colpite prima di arrivare al centro non era una cosa particolarmente interessante faceva abbastanza insomma pietà purtroppo è una fase di gioco di cui ci pentiamo di non avere praticamente nessuno screenshot proprio per questo quindi si presentavano una serie di necessità avevamo bisogno di nemici che sembrassero più intelligenti ho messo intelligenti tra virgolette perché chiunque si occupi di intelligenza artificiale potrebbe anche offendersi giustamente se li chiamassi intelligenze artificiali non lo sono ma lo sembrano quindi dovevano avere un approccio di avvicinamento al giocatore convincente dovevano avere una capacità anche minima di evitare gli attacchi del del giocatore dovevano avere una capacità di non rimanere bloccati in ostacoli e pezzi del paesaggio e questa ci ha fatto Sudà un movimento che fosse fluido un movimento che avesse non il movimento lineare delle sfere che avevamo all'inizio ma qualcosa di un po' più bello da vedere e cercare di evitare di avere comportamenti robotici sempre uguali con pattern predefiniti proprio per lasciare il giocatore il più possibile spiazzato e costringerlo ad avere una strategia ok cosa potevo fare utilizzare dei behavior trees oppure potevo appoggiarmi a dei comportamenti di stormo ho detto ho fatto la tesi sui comportamenti di stormo magari mi vengono bene mi sono messo persino a pensare di utilizzare delle reti neurali per educare il comportamento di questi poi per fortuna sono rinsavito sono tornato in me e ho detto no ok non è il caso probabilmente la cosa migliore da fare è avere un approccio semplice e vedere che cosa succede è stata una strategia vincente innanzitutto un movimento basato sulla fisica i cubetti non hanno una gravità e però reagiscono alle forze e agli impulsi hanno un solo comportamento di base reach point per cui io gli imposto un punto da raggiungere e applicando una forza continua tendono a raggiungere quel punto e danno una tolleranza tutto parametrico per fermarsi o comunque rallentare nel momento in cui raggiungono quel punto ho applicato una semplice state machine per gestire questo comportamento di base a seconda della situazione di gioco e della fase di vita del cubetto e ho aggiunto un semplice meccanismo di scarto laterale nel caso in cui durante il reach point il cubetto dovesse incontrare un ostacolo improvviso un attacco del giocatore o un ostacolo del paesaggio ok il risultato è qualcosa del genere delle specie di fastidiosissime zanzare che vi ronzano intorno in continuazione finché non riescono a raggiungere il loro obiettivo e che a volte sembrano avere una personalità malvagia quando cercano di evitare i pugni che cercano di tagli fatevi un giro ripetisco dopo e mi darete ragione tant'è vero che è difficile vedere finire una partita senza una parolaccia all'indirizzo di questi per cui quando mi sono accorto di questo mi sono detto ok good job hai raggiunto lo scopo ok qualcosa che sta a metà tra l'obiettivo ok faremo una corsa sulle ottimizzazioni finali tanto era la parte più noiosa quindi meglio così dicevo una cosa che sta a metà tra la parte di ottimizzazione e la parte di iterazioni brevi quindi di sviluppo rapido è riguardato la resa estetica cosa vuol dire noi sappiamo che i videogiochi moderni basano molto della loro resa estetica sugli effetti di post processo questo è un esempio che non riguarda il nostro gioco perché non avevo screenshot del nostro gioco senza post processo ma che comunque rende l'idea basta vedere non si vede granché su questo schermo ma un po' si nota la differenza tra una scena con e senza post processi ok questo è quello che vi ho appena detto il problema è che molti effetti sono inadatti all'avr molti effetti di post processo perché avvengono in screen space e questo va in conflitto con la stereoscopia questo perché ora vi faccio fare una cosa estremamente stupida se è troppo stupida ditemelo io ve la faccio fare lo stesso non so se vi hanno mai fatto provare il giochino del pollice davanti al naso se mettete un pollice più o meno a questa distanza davanti al vostro naso chiudete prima un occhio poi un altro noterete che il pollice sta un po' qua e un po' là ok questo è il principio della stereoscopia come funzionano i nostri occhi il cervello interpreta la differenza tra queste due immagini e quella differenza gli dice quanto sono distanti gli oggetti dal nostro sguardo ora questo piano che ho disegnato qui è il piano di proiezione l'immagine stereoscopica viene proiettata da un occhio e poi dall'altro in VR sullo schermo e otteniamo appunto due immagini differenti dello stesso oggetto che vengono diciamo fornite ai due occhi dal visore il problema è che gli effetti di post processo avvengono qui in questa fase in cui perché avvengono appunto direttamente sull'immagine renderizzata e qui la maggior parte non dico tutte ma la maggior parte delle informazioni sulla profondità sono perdute ergo succede che molti di questi effetti creano un'immagine che è uguale per entrambi gli occhi il che dà estremamente fastidio nel momento in cui lo vediamo tipo la fog infatti sono stati necessari molti esperimenti e abbiamo dovuto escludere la nebbia volumetrica che ci avrebbe fatto molto piacere usare ma era orribile a vedersi in VR abbiamo dovuto evitare ambient occlusion abbiamo dovuto evitare il tilt shift che è quell'effetto che consente di sfocare gli oggetti in distanza insomma e parecchi altri alla fine siamo riusciti a capire che l'unica cosa che si può utilizzare in screen space è un minimo di anti-aliasing che non so per chi non dovesse conoscerlo è quell'effetto che consente di eliminare la cosiddetta scalettatura dei pixel negli spigoli Simone non lo sa sicuramente e un minimo di bloom ovvero una sbavatura delle parti più luminose che è vero che crea una leggera differenza sugli occhi ma è qualcosa che non si nota per fortuna ora direte un po' poco beh no perché alla fine come avete visto anche prima dalle slide di Marco il risultato estetico non ci è sembrato affatto male dicevo questo è a cavallo tra l'ottimizzazione e le iterazioni brevi perché abbiamo dovuto trovare un compromesso rapidamente su questa questione e soprattutto utilizzare qualcosa come effetti di poco pesante perché alcuni effetti sono stati dovuti evitare anche per appunto perché troppo pesanti per un rendering real time un semplice effetto come le particelle che abbiamo utilizzato per fare la sabbia nel deserto è stato inaspettatamente piuttosto pesante l'abbiamo dovuto tweakare parecchio per ottenere un effetto buono senza senza appesantire troppo il bloom ci è venuto molto in aiuto in questo perché le particelle della polvere una volta passata la sbavatura del bloom rendendole sufficientemente luminose hanno ci hanno consentito di ottenere un effetto nebbiolina un effetto sabbia tempesta che era veramente molto molto efficace ok volevo parlarvi anche di qualche ottimizzazione che abbiamo utilizzato andrò molto rapidamente perché abbiamo poco tempo però si è trattato di utilizzare soprattutto una serie di best practice dall'inizio dico dall'inizio proprio per la questione delle iterazioni brevi perché partendo dall'inizio con un comportamento decente siamo riusciti ad arrivare alla fine col gioco che funzionava bene senza doverci lavorare troppo dopo in seguito intanto c'è l'istanziazione degli oggetti che in unity è una cosa pesante e l'abbiamo risolta con il pooling tutti i nemici sono pre-istanziati all'inizio della scena e vengono riutilizzati nel momento in cui servono mantenersi sempre nel cosiddetto paradigma 90-10 cioè ottimizzare per lo più al 90% il 10% del codice cioè quelle parti di codice che soprattutto vengono ripetute ad ogni aggiornamento e questo tipo di comportamento ci ha dato ragione perché anche su macchine relativamente low-end abbiamo constatato che il gioco va piuttosto bene queste due in particolare sono delle debolezze di unity da conoscere e da girare adesso se riusciamo ad arrivarci vi dico perché beh intanto il pooling degli oggetti come vi ho spiegato serve appunto per avere gli oggetti soprattutto i nemici già istanziati in una posizione fuori schermo non visibili e da recuperare nel momento in cui servono possono essere raggruppati in diverse categorie sono tutti configurabili per cui quando recupero un nemico da utilizzare nel gioco gli dico quanta energia deve avere a che categoria deve appartenere e che tipo di comportamento deve avere e ce n'è un manager che ne gestisce il ciclo di vita il problema di A Thousand Updates che è ben conosciuto è appunto come dicevo una debolezza di Unity Unity è un paradigma di entità componenti ogni oggetto di Unity è semplicemente una posizione nello spazio a questa posizione nello spazio aggiungiamo mediante componenti vari comportamenti che siano il rendering dell'oggetto sullo schermo il comportamento della fisica comportamenti da noi definiti con lo scripting audio e via dicendo ognuno di questi comportamenti ha vari hook ovvero dei metodi che vengono chiamati all'interno del ciclo di vita dell'oggetto ora il più fastidioso diciamo così di questi è il metodo update di cui viene garantita la chiamata ad ogni fotogramma ok ma questo metodo quanto costa non importa che non si legga questa parte qui quello che conta è che questa è diciamo lo sbrogliamento di una chiamata al metodo update quelle due parti colorate prima e dopo che vedete è overhead perché per la chiamata ad update il unity passa per il codice nativo fa delle verifiche chiama il metodo update ritorna al metodo nativo la parte che riguarda la chiamata update è soltanto quel pezzettino lì sotto quindi se ci sono moltissimi oggetti molti componenti che chiamano il metodo update ad ogni fotogramma incorriamo in un problema di appesantimento perché questo overhead diventa bello pesantuccio ora come si risolve utilizzando lo stesso oggetto che si utilizza per il pooling quindi un manager che gestisce il ciclo di vita di questa categoria di oggetti con un'unica chiamata ad update e aggiorna in maniera passiva tutti gli oggetti di cui è responsabile un'altra debolezza di unity è la gestione della garbage collection vado velocissimo perché siamo proprio in fine di tempo il che ci impedisce di utilizzare tutta una serie di cose simpatiche di .net che sei ansiogeno però mamma mia io pensavo che ti stava dando tipo i voti tipo sto sudando dio mio ok quindi dicevo lui mi ha dato la reputazione del cattivo e quindi io devo fare il cattivo adesso mi dispiace no figurati allora dicevo il problema è che unity utilizza una versione di .net piuttosto vecchia con un garbage collector che non è generazionale quindi non suddivide la memoria da liberare per generazioni e non ottimizza la pulizia della memoria per cui bisogna evitare il più possibile di generare garbage in qualsiasi maniera quindi di allocare memoria non necessaria per cui tutte quelle cose simpatiche di .net che sono le classi generiche come liste code dizionario mi prendo giusto un altro minuto e stacco non li possiamo utilizzare o almeno non nelle parti di codice più intense perché ogni volta che cicliamo su uno di questi oggetti ci troviamo a generare garbage per alcuni problemi quindi non possiamo nemmeno metterci ad utilizzare il costrutto comodissimo for each in questi casi la soluzione in questo caso molto semplicemente è quello di utilizzare il buon vecchio for al posto di for each e oppure volendo ma io trovo che il for sia una soluzione più semplice riscrivere l'enumeratore che è l'oggetto che serve per ciclare su quel tipo di categorie grazie a tutti grazie